Si è parlato di turismo e di nuovi investimenti del gruppo Roccoforte in Sicilia Sciacca nel corso della nuova puntata di Vesperi in onda da oggi sulla nostra emittente. Il general manager del Verdura Resort Giacomo Battafarano ha evidenziato in particolare l'intervento fatto sulle villette attigue al Resort di Contrada Verdura. Roccoforte continua ad investire, quindi abbiamo proposto questa nuova tipologia, questa nuova formula ricettiva che sono 20 ville, il cui progetto comunque è in fase di evoluzione. Quindi questa è la prima fase. Ci hanno dato, devo dire, grandissima soddisfazione. Siamo rimasti anche noi abbastanza colpiti da quello che è stato il notevole interesse e ancora una volta aver conquistato una fascia di mercato nuova. Quindi questo significa ancora una volta incentivare ovviamente la destinazione, far conoscere una parte dell'Italia, una parte della Sicilia e quindi raggiungendo appunto Sciacca. L'intero progetto comunque prevede la realizzazione di ben 87 ville. Quindi questa è stata la prima fase. Quindi continueremo con questo sviluppo e le tempistiche ovviamente non siamo in grado in questo momento. Abbiamo appena terminato la prima fase e vogliamo assestarci per poi continuare, voglio dire, ad investire intanto sul verdura. Il verdura comunque si estende su un parco, su un territorio enorme. Sono ben 230 etteri e quindi per sostenere, vuol dire, questa azienda c'è ancora bisogno. Non è ancora arrivato all'apice e quindi continueremo intanto ad investire sulla destinazione Sciacca. L'idea delle ville senza un proprietario? Rimane Roccoforte il proprietario? Il proprietario resta comunque al momento Roccoforte e quindi comunque ogni villa è un piccolo albergo. L'ospite ha la... L'utilizzo di questo strumento è questo, in questa fase? In questa fase assolutamente sì. Ospiti in studio anche il giornalista Filippo Cardinale e l'albergatore Ezio Bono. Nel corso della trasmissione si è parlato inevitabilmente delle terme della cultura dell'accoglienza, che nel corso del tempo è sicuramente migliorata, malgrado sul territorio ci siano ancora tanti problemi tuttora irrisolti. Prima noi avevamo un turismo termale in questa città, tutto il centro storico aveva le casette piccoline, le stanze, tutti vivevano anche di turismo termale, oltre alle grosse strutture. Purtroppo dobbiamo accettare che non c'è più il turismo termale in questa città, lo dobbiamo accettare. Poi col tempo verranno fuori i responsabili perché a Sciacca purtroppo non c'è un turismo termale. E abbiamo oggi un turismo balneare. Io porto sempre, il direttore mi corregga se sbaglio, la visione dei politici o governanti della parte sud della Spagna, l'Andalusia, che era terra arida, ebbero una visione lungimirante di urbanizzazione, cioè un progetto che guardava avanti di 20 anni. E allora lì si trasformò e diventò tesoro quella costa del sole, quella costa andalusa con le infrastrutture, con cento campi da golf.